Quattro appuntamenti inseriti in un cartellone di respiro internazionale per mettere a confronto i magisteri pianistici europei d'Italia, Francia, Spagna e Polonia. È la sfida di Piano Solo, festival internazionale pianistico promossa dai pianisti Paolo Francese e Sara Cianciullo sotto legida del Comune di Salerno. L'iniziativa è stata presentata nel Salone del Gonfalone di Palazzo di Città. Quest'anno per la sovrapposizione di una delle date con gli impegni elettorali per le elezioni europee purtroppo il festival non sarà più nel Salone dei Marmi ma in particolare per l'ultima delle date, il 24 di maggio, ci trasferiremo presso la chiesa di San Giorgio che tra l'altro, visto il maggio dei monumenti, che è un'altra cosa che si sovrappone alla nostra manifestazione e che dà ancora maggiore vigore, se vogliamo, a questa cosa, trova ancora una giustificazione più importante visto che la gente potrà tra l'altro anche girare in città e vedere questa magnifica chiesa che tra l'altro ospita di consueto eventi musicali e concerti pianistici in particolare. Negli altri ci saranno a partire dal prossimo venerdì, quindi dal 10 venerdì, 17 di maggio, altro venerdì e il 21 è un martedì, per finire appunto con il già sottolineato 24 di maggio, venerdì in San Giorgio, alla chiesa di San Giorgio in Via Duomo. Siamo riusciti finalmente a riportare in auge questo marchio che ormai ci accompagna da quasi un ventennio a Salerno e la dodicesima edizione in 18 anni, diciamo che la media è buona, ancora buona. Grazie. Grazie. Grazie.